il 3 marzo torna l'appuntamento per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla questione udito francesco pontoni perché è importante farsi un controllo è importante perché l'udito permette anche di comunicare chi non sente bene ha difficoltà a comunicare e non riesce a gestire mantenere le relazioni che siano con i familiari che siano con gli amici e soprattutto in un anno come questo in un periodo storico come questo non è mai stato così difficile comunicare vi faccio un esempio anni fa entravano le persone nel mio studio mi dicevano non ce la faccio più non sento più niente aiutatemi in qualche modo noi facevamo gli esami e scoprivo puntualmente che c'era un problema di udito importante invalidante grave in questo periodo storico invece le persone entrano mi dicono non sento più niente non ce la faccio più ma a differenza degli altri anni io vado a fare l'esame dell'udito e scopro che hanno un periodo un calo di udito lieve leggero medio quello che ci siamo accorti che anche con un piccolo problema oggigiorno ci sono enormi problemi a comunicare le mascherine non aiutano fanno sentir meno eliminano il labiale un'altra cosa che spesso non si tiene in considerazione sono ad esempio le videochiamate queste queste tecnologie che le facciamo su whatsapp su facebook su su zoom ci permettono di essere in contatto con le altre persone anche se siamo a chilometri di distanza però spesso il labiale non è sincrono magari arriva qualche decimo di secondo dopo la comunicazione la connessione internet spesso non è valida l'audio non è perfetto ecco tutte queste cose per chi ha un problema di udito sono estremamente invalidanti senti l'appello di andare nei centri perché prima si scopri i primi sintomi meglio è credo assolutamente il tempo è sempre un una variabile estremamente importante se non la più importante prima si interviene meglio è ricordo una statistica estremamente importante in italia le persone da quando scoprono di avere un problema di udito iniziano ad informarsi ad interessarsi mediamente dopo 8 10 anni questo tempo crea tutta una serie di conseguenze estremamente importanti e diventa anche difficile fare qualcosa dopo c'è un'età specifica dove bisogna cominciare a tenere in considerazione dell'ipotesi magari di un cedimento proprio dell'udito i 65 anni diciamo che quando una persona inizia ad avere 65 anni è opportuno fare almeno un esame dell'udito una volta all'anno se poi si scopre che l'udito è perfetto allora si può allungare anche questo controllo a tre anni però questa è la soglia diciamo in cui bisogna iniziare a guardarsi un attimo veniamo nel specifico il gruppo pontoni che cosa propone quest'anno in occasione di questa giornata che poi dopo in realtà si allungherà ad altre ma allora sensibilizzare è sempre la cosa più importante di tutte spesso le persone perdono le proprie relazioni ma non riescono a capire qual è il motivo e noi sappiamo che è un problema d'udito e spesso quindi far capire queste cose soprattutto anche familiari diventa di estrema importanza nel concreto cosa possiamo fare abbiamo deciso di di regalare queste infobox degli apparecchi acustici all'interno ci sono dei libri ci sono dei dvd ci sono dei tutorial ci sono delle delle riviste insomma un sacco di materiale che aiuta a capire qual è il problema dito come si risolve come cosa cosa bisogna fare per affrontarlo queste infobox le potete trovare in tutti i centri pontoni udito e tecnologia se non sapete qual è il centro più vicino potete chiamare l'848 39 00 19 oppure andando sul sito pontoni.com